padre franco moscone nonostante tutto è natale sì certo non dobbiamo assolutamente dimenticarci che il signore è venuto ed è presente nel mondo e continua a farsi presente con la sua misericordia e con la provvidenza insomma non ci abbandona di sicuro e quindi è giusto e doveroso anzi forse più ancora celebrare il natale e sentirlo dentro di noi nelle nostre famiglie nelle nostre comunità di credenti e direi nella società in generale perché il natale non parla solo al cuore dei cristiani parla in qualche modo anche al cuore alla fantasia al desiderio di tutta l'umanità che il natale sarà nel gasgano sarà il natale di sempre dal punto di vista liturgico saranno modificati un po gli orari delle messe ovviamente ci sarà un po meno gente rispetto agli altri anni a motivo del contenimento e quindi anche della paura del virus e giustamente ci si adatterà ai protocolli come abbiamo fatto per le celebrazioni da maggio in qua però è il natale di sempre è il signore che viene nel mondo anzi che è già venuto e che dice che è carne in mezzo a noi il natale anche dei poveri dei nuovi poveri ma anche dei falsi poveri ma direi adesso sul falsi poveri non saprei il natale è di tutti insomma non lo dobbiamo rubare a nessuno e a chi volesse utilizzarlo per propri interessi gli diciamo guardate che non è quello il natale che cercato se credete di ingannare ma in realtà diventate ingannati voi stessi se cercate un natale diverso per approfittarne il natale essenzialmente dono e capacità di farci dono agli altri e a dio cosa si augura di trovare sotto l'albero più che lei tutta la sua comunità mi auguro di trovare un rimbalzo di fede una maggior speranza di cuore e soprattutto il desiderio di mantenere le nostre mani aperte per saper donare quanto è in nostra possibilità ecco donare la parola la parola che è il signore e donare i doni che lui ci ha fatto per diventare più coesi e per sollevare aiutare tranquillizzare accarezzare chi in questo momento ne ha fortemente bisogno perché si sente solo e abbandonato ma non deve essere così la forza per curare e per dire la tenerezza di dio e la sua presenza ce l'abbiamo ed è quanto mai valida e utile proprio in questo momento a chi si lamenta delle ristrettezze a chi si lamenta di trascorrere delle feste insolite cosa si sente di dire mi sento di dire che è vero che è insolito se pensiamo alle abitudini che avevamo alla tradizione ormai assecondata di celebrare il natale che era una festa anche molto consumistica ecco mi dico che forse stiamo tornando non indietro ma stiamo tornando all'origine ecco questo natale ci ricorda maggiormente e nella carne quello che è stato il primo natale che si è vissuto a betlemme in povertà in mezzo ai poveri il primo annuncio è avvenuto lì e partendo da loro si è steso a tutti ecco sia anche questo il natale del 2020 ecco partiamo dalla situazione di indigenza di frate di fragilità e di povertà dagli ultimi dai bisognosi per estendere il messaggio di gioia a tutti papa francesco è stato molto chiaro nell'omelia di domenica pensiamo a chi soffre e non pensiamo a fare shopping al consumismo come giudica questo e questo l'abbiamo sempre detto insomma io me lo ricordo fin da quando ero bambino che incominciavo a crescere nella fede nella chiesa c'è stato sempre un po come dire la condanna o l'accusa del rischio di utilizzare il natale come una festa consumistica e quindi renderlo pagano quest'anno è proprio quello utile insomma per ritornare all'origine all'identità vera e quindi sfruttiamolo così ecco diventerà maggior segno di fede ma direi anche di carità perché ci ricorda che il natale parte dagli ultimi e dai poveri perché gesù si è fatto ultimo e povero quest'anno non c'è stato il consueto scambio di auguri con gli amministratori per via delle limitazioni imposte che cosa si sente di dire a chi amministra queste nostre comunità beh non ci sono stati gli auguri in presenza ma ci sono stati gli auguri diciamo a distanza insomma in qualche modo siamo riusciti a farci gli auguri e a dirci i sentimenti che ci devono guidare come responsabili ecco della comunità non solo credente da parte mia ma della comunità civile della società del territorio insomma io ho mandato anche un testo di auguri riprendendo ormai un come dire un ritornello che ripeto da quando sono qui in richiamo ad una conversione che non riguarda solo l'aspetto religioso ma anche l'aspetto laico e civile della nostra società e delle nostre città paesi e case qui del gargano e ci sono tanti motivi ecco per poter e doverci convertire ad una nuova società ad una economia più giusta ad un'alleanza tra istituzioni ad un rispetto corretto dell'ambiente e valorizzazione dello stesso ecco ad una politica che ha bisogno di ricostruirsi di formarsi di trovare generazioni nuove e all'altezza dell'oggi che sta a guardare al futuro e alle generazioni che stanno crescendo e le forma per questo ecco ad una nuova visione insomma anche dell'organizzazione sociale ad una liberazione da una burocrazia che può diventare tante volte virus e in questo modo favorisce ecco non l'economia corretta e lo sviluppo ma favorisce coloro che ne approfittano la mafia insomma la malavita organizzata e tanti aspetti che sappiamo ben presente ovunque ma anche incarnate fortemente in questo territorio che è magnifico ma che rischia di essere rovinato socialmente quindi poi anche ecologicamente da queste presenze padre franco mosconi arcivescovo di manfredonia san giovanni rotondo e vieste o meglio manfredonia vieste san giovanni rotondo per non sbagliare auguri buon natale buon natale a tutti ad ognuno e veramente amiamo il nostro gargano e la nostra terra di capitanata perché il signore gesù è venuto per tutta l'umanità e per questa nostra umanità e qui si è incarnato ha indicato e ha fatto crescere dei santi enormi e che sono luce per l'umanità intera ecco da san michele a padre pio insomma non dimentichiamoci che la nostra terra ha delle capacità particolari per essere luce per l'intera umanità e lo hanno dimostrato i nostri santi fragili ma fortissimi perché immagine del signore ecco d'edificio e risorto